Questa è stata indegna, mi hanno ammazzato gli zombie Ciao ragazzi sono Vosciente e bentornati su Restless Gaming Oggi proveremo Moving Hazard, un nuovo gioco di zombie che si gioca in multiplayer in modalità team deathmatch o cattura la bandiera o mantieni gli obiettivi che è caratterizzato da una mappa stracolma di zombie Ora questi zombie cambieranno molto il gameplay perché prima cosa ci impediranno quasi totalmente di camperare saranno una minaccia perenne e si dovranno tenere a bada specialmente nelle modalità cattura la bandiera dove si dovrà stare fermi all'incirca in uno stesso punto per un minuto o qualcosa del genere si dovranno usare delle armi per rallentare gli zombie per almeno ucciderli facendoli raggruppare o ci saranno anche delle perk che si potranno usare per aizzarli contro il nemico la modalità oggi che proveremo sarà quella team deathmatch sarà solamente un primo sguardo per vedere come performerà questo video sul canale vi consiglio di guardare il video perché comunque vi posso assicurare che ho giocato questo gioco questa sera, ho sbloccato qualche perk, ho sbloccato mi sembra un altro mirino ci sono tutti questi loadout che si possono editare e ci sono più classi, ci sono tre classi e mi sono divertito tantissimo ma cominciamo col gameplay ok cominciamo questa partita deathmatch e cerchiamo di capire la dinamica di gioco a parte segare questo che è una cosa pure molto bella che è successa e segare quell'altro che faceva tanto il figo come vedete non si può camperare prima cosa perché i zombie ti attaccano e i nemici ti attaccano per tale motivo bisogna sempre muoversi questa è la prima particolarità della modalità con gli zombie naturalmente livellando si prendono diverse abilità, diverse per quello è ancora vivo perché, perché, perché una perché mi interessa il cambio dell'arma veloce e mirare così molto più velocemente questa è una cosa che mi interessa però devo sbloccarle con soldi dove sono i nemici? là ce n'è uno ok questo è andato almeno questa cerchiamo di andare dal centro qua hanno usato delle mine che servono per bloccare gli zombie momentaneamente poi spogliono che avevano un discreto danno è morto? si è morto buono buono vediamo l'accelerò un altro che è ancora vivo ok e questo pure è andato ci stiamo muovendo un po' in team che non è male ok grazie per non avermi aiutato stronzo e mi servono quelle munizioni se ce le ha ok questa volta mi ha salvato la vita da se stesso nascondiamoci qua ok morto pure quest'altro tizio ci servono munizioni quello sta per lanciare una bomba è stato fregato quando vado di pistola non ho più colpi non ho più altri colpi i zombie ce li addosso ragazzi sono nei guai ufficialmente sono molto nei guai ok questo è morto almeno suca i zombie mi hanno parato un po' il culo no mi hanno ammazzato i zombie ragazzi sono rimasto bloccato almeno ora dovrei avere qualche altra munizione perché senza munizioni mi sono tratto veramente nei guai suca quelli stanno mangiando il cadavere ok questo è morto pure mi devo nascondere qua dentro per un secondo devo riprendere vita sto sanguinando in maniera indegna da dove arriveranno ora mi stanno facendo la barba i miei alleati si spera dato che quello era stato fondamentalmente accerchiato vediamo se riusciamo a passare da qua ok quest'altro è morto pure quest'altro è morto pure sono autobammo e l'ho presa da questo tizio morto benissimo il sogno continua ok ok è morto pure vai quest'altro prendiamo oh da dove ci sparano cerchiamo di prenderci questa posizione rialzata e possibilmente di punire qualcuno se quello passerà di qua ok l'abbiamo punito andiamo avanti ragazzi la cosa bella di questo gioco è pure come ci sente le armi funzionano bene sembra che sai mirare vai avanti altrimenti i suchi e in questo caso non ho sucato almeno questo questa è stata indegna mi hanno ammazzato gli zombie mi sa si zombie crawled si stanno mangiando il mio cadavere che fa che bello croccante continuiamo da qua ho preso quello alle spalle si difendono tutti dagli zombie in questo momento o almeno ci provano proviamo a salire qua ok muori stronzo ne questo ci ha fatto morire ma pesantemente però siamo 23 kill 7 assist e siamo morti 8 volte quello non l'abbiamo ucciso di certo ah forse l'abbiamo ucciso forse lo abbiamo ucciso è molto bella la modalità cattura la bandiera e quella cattura obiettivi con quella cattura bandiera che mi piace di più di tutte veramente qua c'è questo che sta arrivando ok qua abbiamo lo zombo che ci stava uccidendo se lo mangio il cadavere quello è fermo ci stanno ammazzando gli zombie no ci ha sparato qualcuno no zombie crawled vabbè gli zombie ci hanno ammazzato fondamentalmente uno era fermo volevo ammazzarlo e ho fatto la minchiata ok abbiamo vinto quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco lasciate un bel mi piace per sostenere me e la serie ed il canale grazie e alla prossima ciao